E buongiorno a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo video Siamo qui su Real Racing 3 Nuovo gioco che ho scaricato E oggi proveremo a fare una partita Allora lo facciamo in amatore Dato che è l'unica cosa che ho sbloccato E cominciamo a giocare Vai, gareggiamo 3, 2, 1, via E adesso si curva A sto gioco si curva facendo Girando il telefono Quindi si curva girando così Adesso dobbiamo arrivare lì a quel punto che è quella macchina Ah, gara completata Quinto Adesso facciamo in un'altra Continuiamo Continua Continua E continuiamo Gareggiamo E via 3, 2, 1, via Adesso di conferire Questo qua Canadese Questa macchina canadese Che però non sono uscita a sfidare Non lagare per favore Telefono Come sono sott'eliminato Come sono sott'eliminato Come sono sott'eliminato Ma che ma che è questa? Sembra che mi sono avvicinato troppo Che ma che è? E proviamoci L'obiettivo adesso che l'ho letto è arrivare tra i primi tre Quindi sono ottavo Ottavo Devo diventare nono Quindi devo sempre essere Sto Cristo E sono settimo Quarto Terzo Secondo Secondo E primo Dai Dai che me la sto cavando Dai Dai che me la Dai che vai Anche sto guidando Sto guidando anche benino Ci sono eliminate tranti Dai Mi manca poco Dai mi manca poco Adesso Devo entrare in carreggiata Su Dai che ce la faccio E abbiamo completato la gara Primo premio Bene Finalmente ho trovato il gioco per me ideale Continuiamo Continuiamo Lasciate un mi piace Attivate la campanellina Se ancora non l'avete fatto Poi Sotto in descrizione Vi lascio il mio link La mia pagina Instagram Che mi chiamo Leo Trattino in basso Piergiù E la farò delle storie Con gli annunci dei video E metterò delle foto E dei sottaggi Quindi a una prossima volta E arrivederci Ciao